ciao allora oggi vi parlo di questo roll on occhi del Livre Shea, il roll on occhi cool solution anti fatica, dice di essere anti borse e anti occhiaie, la quantità è un 15 ml quindi classico per i contornocchi e costa 12,95 euro a prezzo intero spesso anche in offerta cos'è la bellezza di questo flaconcino roll on? che non ha una sola sfera intera ma tante piccole sfere, questa forma particolare tipo quasi a... mi sembrava una forma particolare perché era ergonomica ma adesso che la vedo, dopo che ho visto cosa è uscito ultimamente è identica alla forma di un ferro da stiro, la punta di un ferro da stiro, sapete che c'è un noto brand che è uscito con questo applicatore a forma di ferro da stiro ecco uguale, identico, solo che questo ci ha da più tempo in giro è un prodotto intanto molto con questi tre applicatori che risulta molto fresco quindi subito le occhiaie sono già attenuate il gel all'interno è molto fresco, delicato e si assorbe subito quindi è perfetto anche come base per il trucco promette di essere anti borsi e anti occhiaie ok si effettivamente con questo tipico prodotto che comunque sia va a decongestionare e poi queste palline sferiche che sono molto fresche da loro a contatto sono davvero fredde si sente ed è un prodotto che va subito a togliere le borse e le occhiaie ed è applicato in frigo oltretutto si raffredda ancora di più quindi davvero al mattino voi andate ad applicarlo e vi sgonfia subito tutto io l'ho trovato un ottimo prodotto, stavo guardando se c'era qualcosa altro da dire è un ottimo prodotto e oltretutto ha un buon inci quindi sicuramente il prezzo rispetto ad altri prodotti roll on non è eccessivo mi è durato tanto, devo dire tanto secondo me ha applicato mattina e sera tre mesetti buoni da fatti mattina e sera tutti i giorni lo applicavo quindi davvero wow ed io ve lo consiglio, si ve lo consiglio davvero molto che ne ho come prodotto, molto fresco, molto pratico anche e soprattutto anche il prodotto al suo interno si assorbe velocemente è una specie di gel che quindi si aiuta a massaggiare queste sferette e si assorbe velocissimamente quindi davvero consigliatissimo soprattutto per chi come me è portatrice di borsa e occhiaie e fatemi sapere se l'avete provata, come siete trovate io come di solito spero di essere utile e al prossimo video ciao